In questo momento particolare abbiamo deciso di convertire la nostra produzione per far fronte all'emergenza Covid-19. Grazie all'esperienza nel settore tessile abbiamo avviato la produzione di mascherine sartoriali. Le mascherine offriranno alle persone una maggior protezione grazie a tessuti testati certificati antigoccia. Realizzate in Italia con tessuti di qualità rispettando le normative vigenti sono confortevoli e aderiscono perfettamente al vostro viso. Grazie a tutti.